Un altro schiaffo alla cultura lo ha definito così il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora. Nel mirino di ignoti infatti ancora una volta il teatro comunale Delise di Sarno non ha visto ancora la luce, la sua inaugurazione, che già è stato fatto oggetto più volte di raid vandalici che ne hanno danneggiato il volto. Costernato il primo cittadino che però spera si possano arrestare presto i colpevoli visto che per le indagini in corso potrebbero risultare determinanti agli inquirenti le immagini della videosorveglianza presenti sul posto e di cui i vandali potrebbero non essere a conoscenza. È stato un atto feroce, spreggevolissimo perché chi si accanisce contro l'arte, contro la cultura è un barbaro. Non ci sono mezze parole perché se non si comprende fino in fondo che i luoghi dove si fa arte sono luoghi vitali vuol dire che queste persone sono veramente da condannare senza ripensamenti. Senza ripensamenti. Io mi auguro questa barbarie. Ha ferito me e ha ferito sicuramente tutta l'amministrazione, l'intero consiglio comunale. È ferito anche le tante persone per bene e oneste di questa nostra città. Però rimette il dito nella ferita, nella piaga. Sono episodi di inaudita scelleratezza, probabilmente anche sostenuti da una diseducazione familiare profonda, profonda come il mare. Io mi auguro che le persone, i soggetti che hanno fatto questo inaudito gesto barbarico siano veramente arrestati. Me lo auguro di cuore. È doloroso che i cittadini della mia città abbiano... Non amino la propria città. Spero, spero che sia puri che non siano cittadini di questa città.